E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi un video molto particolare e anche molto importante e sono sicura che avrete letto sia il titolo che anche la miniatura. Ho partecipato al Twitch Rivals di Valorant che è un torneo non competitivo questa volta e ho partecipato insieme a Power, a Terenas, a Stermy e Johnson. L'obiettivo ragazzi di questo torneo non era appunto quello di competere per vincere dei soldi per se stessi ma un torneo appunto di beneficenza. Noi siamo riusciti a vincere una partita e abbiamo vinto un totale di 3.000 dollari. Questi 3.000 dollari saranno direttamente donati in beneficenza per appunto tutto ciò che sta succedendo in questo periodo un pochino brutto e quindi appunto per dare una mano a chi in questo momento ha più bisogno. Quindi sì, un'iniziativa molto bella, molto interessante. Comunque sia è una cosa molto positiva e anche noi abbiamo cercato di dare appunto il meglio che potevamo dare dato che comunque non abbiamo neanche mai giocato insieme. Detto ciò ragazzi spero che voi possiate apprezzare questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo inoltre di iscrivervi sui miei profili social che appunto il primo è Instagram che trovate qui sotto in descrizione e il secondo ragazzi appunto è Twitch dove mi trovate in live tutti i giorni dalle 13.30 fino alle 2 di notte. Quindi ragazzi dotatevi questo fantastico video e una buona visione. Vai, noi che cosa cerchiamo di non essere troppo consiglio. Hanno già messo il muro, potrebbe essere sopra. Hanno smorgato la palla. Aspetta, ci hanno messo, lo stai facendo la dietro. Uno bagno. Attenzione allo slow. Uno è stata. Senti la patta. Lo sanno che siamo qua adesso, lo sa che siamo qui quanti. Possiamo andare B. B. Porco giuda, c'è la deagle. È l'angolo. Guardate prima voi, che ce lo vuole. Va bene, va bene, va bene. Fa niente, fa niente. Bravo. Stato, guarda bottino. Avesse di me. Wind, wind. Uno. Uno. Un'ultima. 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 Fa sempre la stessa cosa. Su belong fa nade e via. Mi hanno sbaccata a me. Mi hanno sbaccata a me. Un'ultima. È sull'orb. Trovati. Ci hanno sgamato. Saranno che siamo qua. Nade. Vado a vedere se qualcuno arriva da Bufferum, ragazzi. Adesso, metto il wall qua, andiamo dai. Left clear. Bomba CD. Uno elbow. Dentro, io. Backside. Sbocca. Tutto i 40, fuori. Via trovo, Ale. Non sono riuscito a far niente. Buona notte. Bravo, Gio. Dietro uno da te. L'ho wallato, eh. Quello... Ha fatto il muro, secondo me. Un'ultima. Ottimo. Plannate per long. Lanta, 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 lanta. Lanta, lanta. Lanta, lanta. Ok, ok. Ok. Brava, ok. Brava, brava, brava. Per me, la raga. Riproviamo di nuovo B. Va bene. Vai, vai, vai. Ci sono. Terri, vieni con me. No. No, no, Terri, nel senso B long, B long. F***. Mi hanno bloccato di nuovo, eh. Quando lo posto in a secret. Mi ho coperto di P. 30 secondi rimasti. Abbiamo poco time. Uffo. È veneno, il mio cuore. No, 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 è veneno. No, è veneno, il mio cuore. No, è veneno. No, è veneno. No, è veneno. No, è veneno. Il mio cuore è veneno, il mio cuore è rimasto. 10 secondi. Salva, si è riuscita. Va vai. Nedi rage. Rage one. È là. Non posso fare niente. Molly su long. Mi serve che qualcuno la picca da B long, ragazzi. Che viene da B long e si affaccia. Eh, ci hanno smoccato un attimo. Ha smaccato window. Ha smaccato garden. Ho avuto una nade. Ok, non serve. Sto stando, eh. Sto piattendo. Ecco la cajoman, cajoman. Oh no. Ha fatto il fake, ha fatto il fake. Sono dentro, sono dentro. One shot, è one shot. Stiamo entrando. C'è un'arma. Vai, vai, vai. Splanati per long. C'è rage window, c'è rage window. Mi arriva a CT, mi arriva a CT. Non posso parire. Non posso parire. Non posso parire. A parire CT. Giustizia dal cielo. Una e altro, eh. Low, low, low. 65 l'ho fatto, l'ultimo. Bravo. Salva, vai. Cori, corri, cori. Non ce la fa. Non ce la faccio, non ce la faccio. No, non ce la faccio. No, non ce la faccio. 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 Serve che metti una trappola. Che questo giro potrebbe arrivare da dietro là po'. Va bene. Mi hanno smaccato. Mi muozzo sempre. Mi hanno smaccato. Se no, non vedi niente. Arriva. Hittato, Grimson. Buono. Chiamatemi le cure, eh, se serve. Ha fatto la molly. Window. Ok, ha nello. No, dentro, però venisce la molly. Non ce la lancio. Non ce la lancio. Non ce la lancio. Ok, ok. Ho citato il tuo site. Grimson. Arrivano a questa. Mi ha fatto. È dentro. Hittato, è dentro. È dentro, a sinistra, cro. No, è morto, è morto, è morto. Ho acceso. Uno CT. Dobbiamo plantare. Ho plantato per l'ombre. Ho plantato per l'ombre. Sotto il drone. Ho meno CT. Ho fatto wallbang. Gio, gioca. Ho visione sulla bomba. Devo bloccarlo, devo bloccarlo. Mi ha bloccato. Alla bocca. Non so dove sia l'ultimo. Fuori CT. Bravo, 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 bravo. Eh sì, potremmo. Potete, potete, cioè prepararvi verso l'ombre. Morto Princeton. Eh, amica, allora, cioè, andiamo. Hai tu la bomba, servi? Ho pronto con telecamera, eh? Ho pronto. Una ti fado. Una, uno, raid. Ragazzi, vedete uno in window. Ok, fatto. Ancora uno CT. Ci sono in window, tranquilli. Motto window. Bravi, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Io punterei a un super fake su Aragha. Late. Smocchiamo. Proprio gliela facciamo credere di brutto. Quando mancano paracchi. Operator. Belong. Vengo a restarti. Fammi andare con l'osso. Vai. Ah sì. No, eh, niente. Ho visto, il robot era in due. Guarda. Sono in due. Brava, trovo niente, trovo niente. Sono in due, sono in due. Ho visto, il robot era preso pure me. Mannaggia, che sfiga. Sono con la botta. Distruggi il code. Sono due, tu teleporta, eh? Uno ha preso il teleport. Ho preso il tram, per favore. Guardi, ragazzi. Sono in window. Window, window, window. Vai, ballata per te, Croato, miss. Gioca pure più safe. Attenzione a destra. Bravo. Oh, direi ti rette. Volevo detto, ragazzi. Non sono riuscito a lettargli un code. 39, sta. Sta correndo. Ma bravi, raga. Sto smaccati. Attenzione dietro. Giochiamo un attimo più lenti. Cerchiamo un attimo di noi. Ok, back anch'io. Andiamo, raga. Uno è qua, a sinistra. Lo faccio io. Ok, è andato su Z. Z, elbow. Nel Z, sì, elbow. Planate, planate, Rob. Ah, sono io, c***o. Ce n'era una adesso di site. Plato per lungo, plato per lungo, plato per lungo. Io ti ho curato, ti ho curato. Uno window, chissà. Uno window. Bravo, terra. Bravo, terra. Gioca dentro, gioca dentro. Gioca dentro. Dove si ne scrundano tutti? Info in arrivo. Nice. Fuori window, fuori window. E' lì starmi. Per effetto, ragazzi. Gioca, ragazzi. Giottiamoci la... Andiamo a fare un pick. Uno è qua. Mando robotina secret. Vai, vai. Raise sua, long. Annamorato. In short. Be long. All'arco. Cosa facciamo? Una appena tipato. Eh, siamo in due terre. Back side. E' ciò da tipi ma c'è il wall. Sono a prendere il tepito, sono dietro. È diventato. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Andate, correte. Tipiamo, dare. Proviamo. 10 secondi rimasti. Un'arriva da... uno bathroom e un ai mid utilizziamo tutte le nostre ulti anche tu johnson usa il drone prima o anche lo scappato l'ho man che feca ma andiamo sul sacco rizzo a rizzo in entriamo ragazzi siamo in siamo in siamo in sembra che il site sembra che ii 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 iii ii 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 dai metto maggiore shortale un gioco si sape il muro non ho gioco qua con lo slow ho fatto a casa 1 22 bilan 2 bilan hs al brimson che erano belong non ho smaccato battaglia tento ma non ho fatto in realtà stanno provando a pusharmi di short se uno almeno che possono andare tranquillamente su un lavoro un altro un altro ancora assieme non ci può fare a tutti è detto sì ecco la sheriff una serie per me sono arrivato in ritardissimo basta che bathroom non mi piccano ti ho smoccato ok tu vedi ale mi sta pushando mi sta pushando anche b short due long 52 niente io poto pure 50 omen nado sub andiamo 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 go 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 gente mid a sinistra mandiamo continuiamo qua clear sta ruotando qua morto 1 long 2 long stati in testa stati in testa mando robottino ferito 50 a sinistra era potrebbe essere ovunque dentro è dentro è dentro è dentro l'ho ferito dentro ha l'ha fatto il fatto 24 bravo giocato bravo 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 nice buono raga non ho il wall non ho il wall la cambra che ce l'hai se l'ho sopra qua vedo long io no no ct 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 ok 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 tengo chiuso da me è già qua è passato secret scusatemi errore mio bel posto quello secret è ancora lì sono tutti e due sono l'ora che penso e battro e si che tecno bravissimo uno lato cover lato cover ok è dietro box è vostra è vostra è vostra la facciamo si ce la fai ce la fai cento per cento bravi raga bravi raga bravi raga questo fate attenzione non giocate in posti chiusi l'ho tirata macchina di qua window gente long è ancora pulita o meno ha smaccato a se deve essere un fake si si ma fate solo una smocca non vedi niente vero labo il long battono via nulla non solo in fondo cosa hai detto martin che battono mi è pulito per il momento window è pulito hanno smaccato mi dà mi dà arriviamo e un altro vai bella arrivo verso bathroom hanno lesato va bene va bene tranquilli oh uno dietro uno dietro dal tp arriva bathroom bathroom bomba drop 8 secondi non ce la fanno non hanno time base morta bathroom l'altra è short no scusate mi dà preso bravi 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 sei tu che stai steppando vero johnson uno long raise long b ti tiro la smoke di prima ok ok ce n'è uno qua eh be short long non c'è nessuno di brimstone smoke qua se vuoi johnson sono in te ok hanno rismoccato a me due qua uno qua sta andando su long eh due qua da me due qua da me due qua da me porti due window omen window omen window non posso fare niente non posso guardare window morto cd morto 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 omen tg bravi bravi raga ti tiro la smoke per prendere controllo non mi scappi non mi scappi outati da noi hanno smoke anche da noi raise qua bathroom sono qui eh vai ed esplodo si eh ho sentito il rumore attraverso la telecamera fuori bathroom 2 fuori bathroom 2 devi usare non mi scappi non mi scappi devo beccare devo beccare devo beccare bellissima c'è anche brimstone vabbè va qua 78 sono duro fuori da bathroom ragazzi è abbastanza long 30 secondi rimasti morto uno via via eh non potevo ero slavato si scusate si scusate ci si vede omen ulti eh si omen brimstone ulti bomba b eh dentro la window avete ulti usate l'ulti che sova quello che era ho dotato l'ulti ci sono appena finisce l'ho slavato esco me l'ho visto me l'hai smuggato guarda si no mi ha fatto ho spusciato ho spusciato la smoke prova defusa 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 faccio bilonghi ha volato a metà e bilonghi verso sinistra vai e l'ho portato a metà è a metà tranquilli ce la fa vai è a metà bravi bravi vedi 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 bella bravi bravi Grazie a tutti